Grazie a tutti. Lo che non ci sono, ci sono davanti con la quantità di partecipanti che ci sono venuti. Di me, ci sono i propagandamenti per il nostro idioma, per il nostro paura, per mantenere la vita della comunità di Bonneiro qui, tanto per grandi come per giovani. Cosa vuoi fare qualcosa, qualcosa che ci sia più bello di un anno? Cosa vuoi fare qualcosa per fare, sicuro, sicuro, non è qualcosa per ripetire. Cosa vuoi fare, c'è il nostro paura, c'è il nostro paura, c'è il nostro paura, che ci sono i dictati nazionali, un messaggio per noi che ci sono venuti per il nostro idioma nazionale. La nostra comunità di Bonneiro, mi chiedo di sostenere il nostro paura, tanto per scrivere come per scrivere. Se non ci sono venuti il nostro paura, busco un corso per fare, per il nostro paura, per il nostro paura, per il nostro paura, ci sono un paura di comunicazione molto importante nel nostro paura di Bonneiro, per fare un certo studio, per fare qualificare il nostro paura, e ci sono venuti con le recomanazioni, per il nostro paura di Bonneiro, per il nostro paura di potere, per fare un modello per sovraggare, per fare una insegnazione, per fare un'occhiazza, per fare un'occhiazza, per fare un'occhiazza, per fare un'occhiazza di un idioma, che non può dominare, ma che non ha un diploma di Naman che non può fortaleciere la nostra insegnazione e la nostra capacità che noi abbiamo della comunità monediriana.